Vicolo da ponte, tutto ok. Due posti disabili, uno vuoto e l'altro occupato con regolare tesserino. Continua il nostro viaggio in città per controllare il rispetto delle regole, che chi non può parcheggiare sui posti per disabili non lo faccia. In questi giorni di furbetti ne abbiamo incrociati troppi. Ci spostiamo di pochi metri e, amara sorpresa, il posto riservato in Piazzale Trento è scomparso. Per terra si intravedono ancora le strisce gialle, ma lo stallo per disabili non c'è più. Al suo posto una colonnina. Che fine ha fatto? L'amministrazione comunale ha intenzione di sostituirlo e se sì, dove, come e quando, lo chiederemo a chi di competenza. Stessa situazione in Viale delle Fosse. Qui un posto per diversamente abili e uno carico-scarico sono impossibili da utilizzare. Lavori in corso si sono di fatto trasformati in area cantiere. Per quanto ancora gireremo queste due questioni all'amministrazione.